Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento a Cold Meteo. Nel corso di questo lunedì, primo giorno di agosto, l'anticiclone conquisterà buona parte della penisola, garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque, tuttavia con temperature nelle medie del periodo, in quanto soffieranno venti più gradevoli dei Balcani, principalmente sul lato Adriatico e al sud, solo al nord-est, sulle Alpi, qualche isolato scroscio di pioggia pomerigiano. In Abruzzo, inizio di settimana, dominato dal sole e dall'anticiclone, che garantirà una giornata molto stabile e piena di sole, solo in montagna, qualche addensamento pomerigiano, ma non ci aspettiamo fenomeni annessi. Temperature stazionarie massime tra 30 e 31 gradi, millimetro 17 e 25 gradi, venti disposti dal nord-nord-est, con rapiche moderate sulle coste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.